Allora, quello che abbiamo qui oggi è questo prodotto che mi è stato mandato dalla Kensui, spero di averlo pronunciato correttamente, e l'attrezzo in questione si chiama Easy Neck. È un attrezzo che ci consente sostanzialmente di allenare il collo. Un perno di carico con delle maniglie, un cuscinetto che poi appoggiamo sulla nostra testa e come vedremo tra un attimo andiamo a fare diversi esercizi per allenare la muscolatura del collo. L'allenamento del collo non è estremamente popolare, non si vede tantissimo fare nelle palestre con i vari esercizi che possiamo fare per questo distretto. Sicuramente è molto comune in quegli sport in cui è necessario avere un collo forte, come può essere nell'automobilismo, mi viene in mente negli sport di combattimento, sicuramente nel rugby, in altri sport in cui appunto si va a sollecitare molto questa zona per proteggersi da concussioni, insomma traumi e cose del genere. Invece in termini di sport di forza classici come può essere appunto il bodybuilding, il powerlifting, non si considera tanto, però allenare e rinforzare il collo può avere dei benefici che personalmente ritengo ogni tanto sia giusto andare appunto a stimolare un po' questa zona per rinforzarla. Ho visto anche dei benefici, soprattutto su quello che è la panca piana. Ogni tanto mi partivano delle sorte di torcicolli, insomma, un po' di torcicollo, perché andavo proprio a calcare su questa zona, a spingermi molto sulla panca con le scapole, si rigidiva anche il collo, non era abbastanza allenato per far fronte a quella tensione, quindi ogni tanto si creava del discomfort. Quando ho iniziato un po' piano piano a introdurre qualche esercizio per rinforzare il collo, sono sparite quelle tensioni appunto, quei fastidi e quindi mi sono trovato molto meglio, ho detto cavolo allora forse un po' di importanza questa cosa ce l'ha. Poi dal punto di vista estetico sicuramente avere un collo forte e robusto è anche una cosa appunto che bilancia un po' il nostro corpo, se siamo grossi ovunque appunto, ma il nostro collo rimane una matita sostanzialmente, non è una cosa bellissima da vedere. Quindi uno strumento del genere secondo me ci può tornare utile. Possiamo allenare il nostro collo anche senza servirci di un supporto del genere, però diventa estremamente scomodo. Abbiamo bisogno di un cuscino perché dobbiamo, nella maggior parte degli esercizi, poggiarci un disco pesante sulla testa, questo è scomodo, possiamo appunto servirci magari di un cuscinetto volante, un asciugamano o cose del genere, però appunto non è la stessa cosa. Poi questo è anche caricabile, blocca i dischi in posizione, secondo me è una cosa fantastica appunto per allenarsi in sicurezza e comodità e appunto per dare quell'impulso appunto a fare l'allenamento del collo, perché rischia di diventare una cosa appunto come per magari i polpacci, gli avambracci, gli addominali, molte persone li mettono a fine allenamento e quella cosa la saltano. Magari uno strumento del genere, almeno personalmente, mi dà la possibilità di dire, ah ok, sono comodo, riesco a fare quell'esercizio in un attimo e lo faccio insomma. Quindi quello che andiamo a fare è caricare questo Easy Neck in modo che poi possiamo stimolare tutta la muscolatura del collo con diversi esercizi, andando a esercitare le varie funzioni. Io per adesso resto abbastanza leggero, ci metto una decina di chili, tanto per fare qualcosina a scopo dimostrativo. Quello che andremo a fare come prima cosa è lavorare sulla flessione cervicale, quindi utilizziamo i flessori profondi del collo, sono frontalmente sulla parte frontale insomma, e ci serviamo di una panca piana, in questo caso abbiamo le maniglie che possiamo afferrare, appoggio il cuscinetto sulla mia testa, come possiamo vedere, faccio spazio in modo da poter allungarmi indietro, quindi porto l'allungamento sulla muscolatura dei flessori del collo, e risalgo in maniera controllata. Bella contrazione, mi allungo di nuovo, già subito le prime ripetizioni, si sente molto bene, neanche con questo attrezzo perché spingi il carico in fuori, percepisco bene l'allungamento della muscolatura. E solitamente quello che faccio, come mi piace allenare questa zona, insomma, è ad alte ripetizioni, 15, 20, 25 ripetizioni, trovo che sia la cosa migliore da fare per il collo, per anche tenere il carico un po' più basso, in modo da non andare a tassare, appunto, strutture magari delicate, o che non sono così allenate, con dei carichi importanti, preferisco fare lavori di pompaggio, mandare su le ripetizioni, che comunque questo è ancora un peso leggero, che ripeto, appunto, va benissimo per partire, non vogliamo partire con carichi altissimi, se abbiamo, appunto, non abbiamo mai allenato il collo, però progredire, salire lentamente con i carichi. Quindi teniamo le ripetizioni alte e lo facciamo per tutte le direzioni alle quali andiamo a colpire il nostro collo. Altro esercizio che possiamo fare, ci giriamo broni su una panca e facciamo il contrario sostanzialmente, teniamo l'attrezzo, il peso, dietro la nostra testa e lavoriamo in estensione, appunto, quindi andremo a sentire tutta la tensione sulla parte posteriore del collo, in questo caso, che generalmente è un po' più forte, le persone tendono ad avere questa zona già più tesa, più robusta di quella anteriore. Anche qui un bel allungamento in basso, una bella contrazione in cima, sempre in maniera controllata e lavoro su ripetizioni abbastanza alte. Adesso, per l'ultimo esercizio, andiamo a lavorare su una flessione laterale, però siccome, appunto, dovremmo colpire entrambi i lati, in questo caso anche la muscolatura è più debole, più piccola, abbasso un po' il peso, quindi anche qui il sistema di bloccaggio funziona piuttosto bene, devo dire, in modo che non si muova il peso. In questo caso diventa un attimo da capire sempre come vogliamo posizionarci bene sulla panca, ci serviamo sempre delle maniglie, in questo caso si possono posizionare anche tranquillamente, è molto comodo anche lavorarci in questa maniera laterale, con questo attrezzo, devo dire, e mi sollevo in questa maniera. Allungo lateralmente e contraggio. Chiaramente tutti i movimenti che ho fatto adesso per allenare il collo, c'è sempre un po' la componente del tronco, dell'addome, che vuole seguire in quella direzione, no? Quindi fare un neck curl come ho fatto prima all'inizio coinvolge anche l'addome per forza di cose, perché tutto il tessuto connettivo tira sempre in quella direzione, sono fatti per lavorare assieme e quindi è normale che comunque ci sia sempre un po' il busto che vuole seguire la direzione del collo, quindi non preoccupiamoci troppo di escluderlo dal movimento, ma cerchiamo sì di sentire il collo che lavora comunque. sempre alta ripetizione quando ho fatto cambio lato e lavoro in questa direzione. Quindi ragazzi, devo dire che non pensavo sinceramente, ma questo attrezzo secondo me è veramente utile, direi quasi essenziale per allenare il collo se vogliamo che sia una cosa che riusciamo a protrarre nel tempo, perché io ci ho provato personalmente, usare i dischi, mettere magari un berrettino, un asciugamano o qualcosa per fare un attimo da cuscinetto. Ma questa cosa qua, semplicissima, mi ha un po' rivoluzionato l'allenamento del collo, quindi personalmente mi sento di consigliarlo. Non sono pagato, non è una sponsorizzazione o cose del genere, mi hanno semplicemente chiesto di recensire il loro prodotto e secondo me è approvato. Quindi questo è quanto per l'allenamento del collo. Secondo me è una parte davvero che merita attenzione per prevenire infortuni, essere più stabili sulle varie alzate. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Noi ci vediamo nel prossimo. Buon domingo però. Ah sì.